Avevi detto quanto è mala, non avevi parlato del Salvatore. Io non sono mai stato all'estero in vita mia. Qua ammazzano la gente, voi. E tu credi a quello che stampano sui giornali? Andiamo, vedrai che ti piacerà un sacco. Passami lo spinello. Doc, questa è la mia ultima occasione, dico sul serio. Se riesco a fare qualche bella foto di guerra per la PIP, faccio tanti bei soldi e ti pavo i debiti. Sarebbe ora che mi pagassi. E poi ce ne andiamo alla libertà. È una spiaggia favolosa. A divertirci, a non fare niente per qualche mese. È la fine del mondo. Lo sai che qui si può campare con 300 dollari l'anno? E questo che è? Gas urtica. E a che seno? Contro i cani randaggi. Sì, i cani randaggi, ma per favore, voi. Mi hai preso per il culo dal principio. Devo essere sincero con te? No. E che si fai con tutti questi oro? Cerca di capire che qua la vita è più vivibile che altra cosa. Ma che cavolo! Ma già, dammene uno, vai. Sono convo di certe situazioni. Coraggio, vedrai che resti contento. No, io torno a casa, bello. Puoi guidare ubriaco, far ammazzare chi ti pare per 50 dollari. Io non voglio far ammazzare nessuno per 50 dollari. C'è la meglio fica del mondo. Dove la vai a trovare, una vergine che se la fa leccare per 7 dollari? Eh? Eh? Sette biglietti. Guarda che se non è roba di prima scelta, io torno a casa. Due vergini 12 dollari. Tu sei fortunato perché io sto nella merda come te. E la coca? Senza ricetta, è bello. E qua c'è roba che te lo tiene duro tutta la notte. Qua la gente pensa solo a fottere. 12 dollari? Cosa comincia a diventare allettare? Ah, adesso ragioni. Sei un gran figlio di mignoto a voi. L'adorerai questo posto? Verrai che paradiso del vizio che è. Perché c'è un blocco stradale? Ah, qui? Perché non li vieni mai a sapere. No, prendi questo. Fai il fesso e staccarlo, capito? E questa che roba è? Un tranquillante? Sì, tipo eterno e cianuro. Dai, mettila via. Ma, 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 guarda che te ne pedi. E il giorno che ti si fanno, ti tagliano le palle e te ne ficcono una per orecchio. Con quella risolvi tutto. Ma, ma perché la metti tanto sul drammatico? Chi sono quegli spaventapasseri? Che succede? Un incidente stradale? Oh, Cristo, poi. Porca vacca. Sì, calmo, doc. È un indio.